manca, allora sono nel profilo della git mi sento veramente male, manca un minuto e 40 secondi non lo vedete mai nella vita ma manca un minuto e 40 secondi ah non lo so, tutti dicono che è un nuovo cd di Jimin io mi sento male, io piango 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 questa è la storia, porca vacca non si vede, come faccio a farlo praticamente ormai mi hanno fatto credere che Jimin butterà fuori un album a marzo e ora stanno in teoria buttando fuori questa cosa ma io non ne sono certa io so solo che ho aperto le chat e dicono che 50 secondi, dicono che verrà rivelato qualcosa quindi io non lo so, mancano 50 secondi, 49, 48, 47, mio dio allora, raga non reggo non reggo, sono qua che sto rimanendo qua così ma addio mio, non ce la faccio, non ce la faccio eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua oltretutto sto utilizzando il mio telefono vecchio che non va neanche super velocemente magari si blocca tutto, benissimo aspetta, aumentiamo la luminosità perché qua aiuto mancano 17 secondi mamma mia 13, 12, 15 il bello è che non verrà quasi subito cioè non lo so non lo so come stia 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, 2, 1 sto riflesciando raga ma non viene fuori niente 0 secondi, cosa devo vedere? entriamo nel sito sta caricando ma secondo me è tipo oh mio dio sono già arrivate le robe, io non lo so raga non riesco a vedere, non riesco a vedere cos'è raga? orientatemi cioè ho il sito bloccato cioè immaginate quanta gente è qua non si carica niente cioè continua a ricaricarsi per sempre ma non va non riesco a piangere troppo cioè dopo l'album di Jimin sto piangendo sto piangendo non avete idea mi scoppia il cuore cioè voi direte se sei pazza fuori di testa, svolgorata ma voi non potete capire prima reazione dell'album di Jimin eccoci qua io cioè questa è la verità raga senza filtri, senza censure io amo quest'uomo non vi so spiegare la mia felicità voglio avere quel CD in mano mi sento malissimo spero che voi siate appassionati di qualche cantante, ballerino autore attore che potete capire di che cosa sto parlando ma raga non potete capire cosa significa per me questo è un regalo gigante cioè non ci credo cioè mi mancava tantissimo avevo bisogno di sentire la sua voce cioè voi direte questa è pazza, ripeto così Grazie.